ciao a tutti amici e benvenuti all'interno di questo nuovo video è incominciata l'estate e ovviamente sul canale portiamo il primo parco acquatico dove ci troviamo siamo venuti a Ondaland a Vico Lungo in provincia di Novara questo infatti è il parco acquatico più grande in Italia mi raccomando più grande come superficie quindi non vuol dire come numero di attrazioni ma come superficie davvero enorme infatti di spazio comunque ne avranno tanto per installare anche nuove attrazioni in futuro oggi ve lo farò scoprire faremo tutti gli scivoli ci divertiremo tantissimo e ovviamente ci sarà tanta acqua non ho il microfono montato perché è già sottolineato da se sono in piscina quindi per evitare che si bagna non l'ho montato ma userò l'audio della telecamera standard quindi se non si sentirà bene sapete già il perché prima di iniziare come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale mettere un bel mi piace se ancora non l'avete fatto e se volete aiutarmi a far girare i miei contenuti mi raccomando condividete questo video adesso vi ho detto tutto sigla ed entriamo dentro a Ondaland vai questi sono gli armadietti amici che ci sono qua molto comodo perché da qua a voi lo pagate quindi self check in per gli armadietti e ci sono sia quella che quelli grandi che quelli piccoli quelli grandi costano 7 euro quelli piccoli costano 5 euro e poi per tutta la giornata potete venire qui le aprite le chiudete quante volte volete quindi molto comodo eccolo qua amici il grande mappone di Ondaland guardate un po tutta la superficie del parco quelli sono tutti gli scivoli ce ne sono qua e poi anche qua oggi vedremo di farne qualcuno e ovviamente poi vi farò vedere anche tutte le piscine di questo parco questa è la prima piscina bimbi che c'è qui a Ondaland e questo è il classico dove lì poi quando si riempirà il secchio punca de tutta l'acqua questa è nuova amici questa è tutta la nuova aria che hanno fatto qui a Ondaland per questa stagione che sarebbe appunto l'aria dei bambini da tutto nuovo qua eccola qua guardate che bella amici questo playground acquatico della nave pirati questo è tutto nuovo è eccolo qua e poi lì c'è anche la fragolina per farsi la doccia guardate tada dato che ci sono anche tante famiglie che seguono park world e sono iscritti al canale oggi appunto vi farò vedere anche sia le cose adatte ai bambini alle famiglie che ci sono poi in questo parco dopo ovviamente ci faremo anche gli scivoli per persone che vogliono vedere le cose più adrenaliniche e coccodrillo come fa papà papà questa però è carina come novità la piccola aria colorata bella allegra quindi se avete bambini piccoli potete portarli qua perché quasi divertiranno venite con me che adesso andiamo a vedere lo spettacolo delle farfalle dove c'è la piscina onde perché anche qui fanno degli spettacoli di quindi diciamo che hanno preso un po spunto anche da acqualandia un famoso parco acquatico che c'è in italia a jesolo lì è iper tematizzato fanno anche degli spettacoli ci sono stato all'epoca ma ancora non avevo il canale quindi non ho fatto nessun video però tornerò sicuramente perché voglio portarvi anche quel parco perché è bellissimo qua stanno prendendo spunto quindi anche qua fanno degli spettacoli come li fanno lì andiamo a vedere come sono questi che ci sono qua mi piace mi piace mi piace mi piace E' un applauso sentito dal pubblico! Ok, l'avete visto, quindi noi siamo appena usciti dalla piscina onde che abbiamo visto lo spettacolino Beh, devo dire che comunque, sì, carino, ma niente di che, perché non c'è un'arena vera e propria dove fare lo spettacolo Ma sì, carina l'idea giusto per portare qualcosina in più nel parco acquatico, fare un po' di animazione Però diciamo che non è uno spettacolo, ecco, di alto livello Amici, vi presento la mascotte di Ondaland, eccolo qua dietro alle mie spalle, proprio lui, il pinguino! Ci siamo, quindi cominciamo, andiamo a fare qualche scivolo, penso che faremo subito questo dietro di me Che è quello un po' più soft, quindi cominciamo con quelli un po' più soft Poi dopo ci spingiamo sempre più su, andiamo a fare quelli un po' più energy Questa è la coda che dovete fare per prendere i gommoni Quindi si fa la coda qua e dopo col vostro gommone vi dirigete in base allo scivolo dove volete andare Ma la coda qua dovete comunque sempre farla per prendere il gommone Ok amici, abbiamo preso il nostro gommone, eccolo qua, andiamo a fare il black hole, quello al buio Tutto buio amici? Perché non si vuole niente? Ok amici? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Mamma mia ovviamente è sempre divertente lo schiuma parti con tutta la schiuma che ti arriva addosso Eccoli qua i fatidici dai andiamo su andiamo a farci una garettina perché questi sono sempre divertenti Ragazzi una ripittura fina quello scivolino lì io gliela darei Abbiamo fatto quelli delle gare ma io come al solito mi sono bloccato proprio in mezzo quindi Nada ok adesso faremo proprio questo qua questo verde che è un family quindi è molto easy andiamo a bordo dai vediamo com'è Come avete visto prima abbiamo fatto anche quelli paralleli ma come al solito io mi blocco sempre in quelli quindi anche qua Mi sono bloccato proprio in mezzo quindi non riuscivo più ad andare avanti Adesso venite con me perché andiamo su uno scivolo che secondo me è il più bello che c'è qua a Ondra Scopriamolo assieme adesso vi faccio vedere di che scivolo si tratta Andiamo a bordo a farci un giro Alla prossima oh adesso sicuramente siamo scesi quello era troppo bello ci avete visto troppo divertente per me questo rimane lo scivolo più bello che c'è qua a ondra quindi quando venite qua fatelo perché quello è divertentissimo no sono rimasti bloccati no ragazzi sono rimasti bloccati lassù adesso amici andiamo a fare quello lì proprio il me i mega gommoni di honda land sono da quattro posti o sennò c'è anche quello circolare praticamente dove sei fino a otto persone amici siamo scesi da cobra questo è sempre divertente veramente con gli getti d'acqua che ti vengono addosso ci sono comunque diversi modelli di questi sciuri in altri acquapark dove ci sono io questi li faccio sempre perché sono sempre divertenti io te e risposte non ne ho no 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 io canto solo rock n roll sì diciamo no non è una cosa seria è così e se mi pare sì il cast artistico di Ondaland vi ha presentato Peter Pan il musical vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una buona continuazione a Ondaland il parco acquatico più grande d'Italia ebbene questo era lo spettacolino che fanno sempre qua nell'area bambini era il musical di Peter Pan è carino comunque sempre anche per i bambini insomma balli in acqua quindi ci sta adesso penso che andremo proprio a rilassarci nel fiume lento un classico dei parchi acquatici quindi ovviamente siamo qua e non possiamo saltarlo qua a Ondaland andiamo ok ecco il fiume lento qua ci sono i gommoni quindi potete scegliere se prendere i gommoni oppure potete anche farlo voi senza gommoni ma dato che questo è easy io penso che mi vado dentro mi immergo senza gommone se no non ce la caviamo più qua sì amici ma questo veramente c'è un fiume lento che è da dormire qua su eh e pensate che l'ho fatto senza gommone quindi riesco a spingermi voi figuratevi con il gommone eravamo ancora lì all'inizio amici non ve l'ho detto mi sono ricordato adesso quanto costa quindi entrare a Ondaland beh il pezzo d'ingresso è 27 euro per gli adulti i bambini dai 100 ai 140 centimetri pagano 20 euro sotto i 100 centimetri si entra gratis e volendo il parco anche un biglietto pomeridiano perché se si entra dopo le due e mezza si paga 23 euro mentre invece quello per i bambini resta comunque sempre a 20 euro e amici noi siamo appena usciti da Ondaland che dire quindi beh questo è un parco acquatico che secondo me ti diverti sempre che tu vieni con gli amici o che vieni con la tua famiglia perché ci sono attrazioni adatte a tutti io vi ringrazio per essere stati in compagnia con Park War per essere arrivati fino alla fine di questo video e prima di salutarci come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e mettere un bel mi piace se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo al prossimo video ciao iscriviti al canale grazie a tutti grazie a tutti